Una gara che non si può sbagliare, quella col mestre per il Teramo non sarà solamente il commiato al 2017. Sarà la partita che chiude l'anno certamente più complicato della presidenza Campitelli che a livello dei risultati sportivi mai si era ritrovato a dover spareggiare per la salvezza. E questa stagione di fatto finora non è che abbia regalato chissà quali soddisfazioni. La vittoria col Padova rimane l'unico vero squillo di questo scorcio di stagione perché i successi con Ravenna e Fano al Bonolis rientrano comunque nel computo di una squadra che farà un campionato con grosse difficoltà anche nella seconda parte. Il girone di andata si è concluso a quota 18 punti, quello di ritorno si spera in casa Teramo che possa dare gioie maggiori a partire dalla prima gara interna di domani sera col mestre. Sarà una partita importantissima che chiuderà l'anno. Diciamo che sulla carta, ovviamente come dice la classifica, il mestre dovrebbe essere una squadra più attrezzata rispetto al Fano, parla la classifica, parlano i punti. Però sappiamo l'importanza di questa partita, sappiamo quanto possono incidere i tre punti e faremo di tutto per provare a portarli a casa. Senza Amadio ancora out, Sarade Grazia e il playmaker Ilari e Graziano, probabili interni, con ventole varas esterni, dietro i tre non si toccano mentre servirà la seduta di rifinitura di questa sera e una notte di riflessione ad asta per scegliere la coppia offensiva giusta che possa chiudere con un piccolo sorriso un anno da dimenticare velocemente. Una gara attenta, una gara ordinata perché il mestre è una squadra di palleggiatori che gioca a calcio, che osa tanto, che attacca con tanti giocatori quindi dovremmo essere intelligenti, difenderci bene, sfruttare le ripartenze e fare questo tipo di gara.